Due iniziative coesse per un medesimo scopo, quello di garantire lo screening cardiologico per la prevenzione della morte cardiaca improvvisa in età pediatrica e l'individuazione di cardiopatie congenite. Si tratta del progetto Un Minuto per la Vita, promosso dalla cardiologia pediatrica della U di Sassari, supportato dalla campagna Sosteniamo le passioni, portata avanti da una nota società italiana attiva nel settore della grande distribuzione alimentare. È stata una meravigliosa iniziativa che va avanti dal 2019, poi era stata interrotta durante il periodo Covid, che consente di screenare i bambini in età scolastica, nelle prime classi della scuola primaria, attraverso una visita cardiologica e con abbinato un elettrocardiogramma. Dal 1 gennaio al 31 maggio di quest'anno, circa 600 bambini tra i 6 e i 7 anni sono stati visitati da un'equipe composta da cardiologhe e infermieri della struttura di cardiologia pediatrica dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari. Abbiamo visitato 8 istituti comprensivi di Sassari e circa 32 classi primarie. Di questi 600 bambini abbiamo individuato una decina di casi con ECG anomalo borderline. Questi sono stati richiamati nei nostri ambulatori per effettuare degli approfondimenti diagnostici. Due anni di intessa che si stenderà anche nel 2024, grazie ai 43 mila euro ottenuti attraverso una raccolta fondi effettuata in diversi punti vendita appartenenti alla riconosciuta catena di supermercati. I risultati sono stati eccezionali perché c'è stata una forte partecipazione da parte dei clienti. Abbiamo raggiunto un grandissimo obiettivo, quello di riuscire a totalizzare un importo quasi raddoppiato rispetto a quello dell'anno scorso.